Con onore e rammarico con qualche episodio arbitrale che mette sotto accusa l'arbitro buonasera di Enna. L'atletico Catania torna sconfitto di misura da Barcellona per 2 a 1 battendosi in casa di una delle corazzate dell'eccellenza Girone B, l'Igea e chiudendo con la consapevolezza di aver tenuto testa l'avversario come a Giarre quattro giorni prima e anzi compiendo pure un passo in avanti andando a sfiorare l'impresa di un pareggio almeno che avrebbe aperto strade più accessibili alla qualificazione in semifinale playoff. La matematica tiene ancora vive le speranze in vista degli ultimi 90 minuti. Domenica a Masca Lucia ci sarà l'Enna rilanciatosi avendo battuto 1 a 0 il Giarre e portatosi quindi a quota 3 punti. Se l'Igea dovesse compiere il colpo grosso a Giarre l'atletico vincere con largo punteggio potrebbe profilarsi addirittura un clamoroso lascia passare Catanese senza escludere il ricorso al sorteggio, parametro contemplato dalla LND Sicilia in sede di regolamento. Sin qui il contorno di una partita che ha registrato il ritorno del pubblico sugli spalti dopo otto mesi. Una partita che l'Igea ha provato a fare nel primo tempo bussando dalle parti di Caruso con due dei suoi uomini simbolo dall'olio e isgro e che l'atletico, confermato quasi in toto rispetto alla recente uscita di Giarre, ha controllato senza particolari patemi meritando di andare al riposo sulle reti bianche. Alla diagonale di Isgro, di avvio ripresa, con relativa pronta chiusura di Caruso sul primo palo, replica Siglari che di testa, suo assist da piazzato di Zumbo, costringe lo Monaco a deviare sulla trasversale al minuto 14. Dal corner sempre di Zumbo, Marino non inquadra lo specchio solo per questione di centimetri. L'atletico continua così a giocarsela alla pari e a viso aperto. All'arresto ci pensa Caruso quando intercetta un tentativo aereo di carrello al ventesimo. Ma dall'altra parte la fuga di Marino non dà giustizia e i catanesi in maglia verde sono costretti a mangiarsi le mani. Perché è solo grazie a un episodio che l'Igea porta il match a proprio favore. È il 24 quando questa spallata di Aleo su assenzio viene punita con la massima punizione. Proteste vane, atletiste, per un calcio di rigore abbastanza a dubbio. Buonasera inflessibile, indica il dischetto. Biondo porta avanti l'Igea che in contropiede può archiviarla qualche minuto più tardi con carrello, pallonetto con il portiere Caruso battuto, senza esiti. Scampato il pericolo, l'atletico torna con determinazione all'offensiva e stavolta con concretezza. Zumbo alza dalla bandierina sul palo più lontano mettendo fuori causa l'estremo Lomonaco. Siglari si conferma tra gli attaccanti più forti del torneo e rimette la contesa in parità a 12 dalla fine, corroborando le speranze di colpaccio al Dal Contres. Zumbo poi vince l'ennesimo duello in mediana. Pavisic lascia scorrere al limite dell'aria. Marino ha le polveri bagnate e stavolta deve arrendersi di fronte al portiere di casa che riscatta l'opaca uscita del gol incassato poco prima, salvando l'Igea dalla capitolazione. L'ultima a poter scrivere la storia del match è Pavisic sul proseguo dell'azione che solo per un intervento a ridosso della linea non esulta per il possibile sorpasso. Solo 60 secondi per spezzare i sottili equilibri. Mondello dalla mancina, buca a centro aria, ciama, carrello, non perdona e regala all'Igea, punto, partita, vetta del quadrangolare playoff e almeno il 70% delle possibilità di qualificazione. Ciò che rimane di una partita più infuocata delle consolidate temperature estive del periodo è la doppia espulsione nel convulso finale di Pavisic e Grifo che riduce le squadre in dieci. Il resto sul fronte atletico Catania è rammarico puro, tra le sultanze dell'Igea Virtus che ha dovuto sudare più del previsto per avere ragione.